Tutta la matematica è democratica perché la può usare chiunque, se un teorema è dimostrato si può usare e soprattutto è democratica la matematica perché aiuta a pensare bene, quindi aiuta la nostra libertà di pensiero se uno non riesce a fare operazioni di ordinamento, questo è più importante di quest'altro, questo è maggiore di quest'altro pensare con coerenza, con correttezza diventa difficile quindi tutto il ragionamento che serve per riportare poi alla fine a quest'ordine è un ragionamento matematico con la matematica si trovano molte cose interessanti, per esempio che non esiste un sistema elettorale che non crei paradossi è un teorema matematico dimostrato, è il teorema di Arrow però appunto molto spesso noi preferiamo abbandonarci o pensare con intuizioni, con regole, con tradizioni e diciamo scegliamo di pensare male, quindi non siamo liberi